scrivere su qualche giornale online o cartaceo le purghe dell'onorevole De Luca, del sindaco De Luca perché magari chi è dirigente non ha votato per me e allora collegano e fanno passare poi quei massaggi schifosi dove non scrivono che c'è una grande azione di risparmio dei soldi dei cittadini perché quello non fa notizia, non fa notizia perché oggi se uno fa una buona azione non fa notizia si ruba, fa notizia, ecco perché forse ci sono sempre più ladri perché così si diventa importante lo dico prima, lo ribadisco, tutto questo si farà nel giro di subito dei tempi previsti dalle norme, ci sarà la concertazione che dovremo fare, l'avvio domani mattina chiaro? Perché da subito io devo razionalizzare e risparmiare perché devo fare il bilancio se no il bilancio non se ne può fare quest'anno, ve lo dico io, ve l'ho detto in campagna elettorale Morabito non ha avuto neanche l'onestà intellettuale di dire purtroppo ha ragione il bilancio non se ne può fare, io lo so già che per fare il bilancio bisogna tagliare immediatamente alcune spese e così sarà, non ci possiamo permettere di non avere un bilancio se no non possiamo operare, ecco vi ho fatto l'esempio di quello che succederà a prescindere da chi sono questi signori, non so, non so il loro nome perché sono uno straniero, vedete il vantaggio ora dello straniero? Pensate se invece per esempio una di queste dirigenti era parente di un consigliere comunale, non esiste questo qua, non c'è questa coincidenza fare al comune, no, sì, no, non sa, non mi interessa, ah c'è questa coincidenza, pure queste cose ci sono, è un mondo che scopro sta da facendo, però non è neanche quello il tema, è normale che se c'è un consigliere comunale o una consigliera comunale, attenzione, che ha il marito o la moglie che è capo area, arriva un sinnoco e dice 15 mila euro in meno l'anno a tua moglie ora, chi lo fa? Se ne va l'opposizione, questo succede poi, ebbene, quando dico che la squadra deve essere libera, la squadra quasi straniera da queste cose, intendo dire questo, che se bisogna tagliare i costi al di là di chi è il soggetto che quel momento rappresenta una risorsa da un lato, per carità, ma a un costo dall'altro, e chi tempo è scritto che ci sono noi tra la risorsa e i costi, in questo momento dobbiamo privarci dei costi? E si fa, perché è giusto che si faccia e nessuno si può permettere di chiamarmi e dirmi quello ha votato per te, perché io non ho mai preso impegni né pubblicamente né privatamente di essere uno strumento di copertura di soggetti o personaggi che sono tutti irrispettabili ma che nella nuova era che voi avete preteso che si lanciasse a Santa Teresa non ha più motivo di esistere. Chiaro? Ora che facciamo? Perché io mi sento in imbarazzo, perché più minuti passano, più la piazza si riempie. Ragazzi suggeritemi pure voi. Allora facciamo una cosa, ma già posso zuccare il tuo palazzo? E allora facciamo una cosa, no c'è una questione anche di correttezza nei confronti di chi ha occupato quella stanza. facciamo una cosa, ora io non mi sento, io da un lato vorrei entrare, lo dico qua guarda la voce alta e affacciarmi da là. Però voi mi dovete promettere una cosa, perché giustamente mi suggeriscono che per una questione di ordine pubblico voi dovete stare sereni qua. E allora così io entro, salgo e faccio il Mussolini italiani! Farò questo. Dopodiché lo dico ai rappresentanti della Polizia Municipale, io non so se chi mi ha preceduto ha degli effetti personali o altre cose da prendersi dalla stanza. Quindi se sarà qualche scheletro o qualche cosa, non lo so, dico questioni che non mi riguardano. Certamente è giusto che ognuno abbia la possibilità di prendersi le proprie cose. Allora siccome io domani mattina però devo essere qua e non mi sento di aprire cassetti, non mi sento di aprire cassetti prima del tempo e prima che l'inquilino abbia tolto le sue cose facciamo una cosa. Non voglio assolutamente che da questo punto di vista io possa essere poi tacciato di mancanza di stile. Quindi stasera, nonostante io lo desideri, non entro. Dobbiamo rispettare. Anche perché dovete capire il dramma. Cristo non è che si aspettava di pigliare stata un pulata. Quindi ci sarà di tutto e di più. E allora è giusto che noi gli diamo la possibilità di togliersi, perché capita, dopo cinque anni uno tiene un gingillo personale, una cosa che è normale. Domani mattina vi prego di portare il messaggio al dottore Morabito. Il messaggio è questo. Entri nella sua stanza e ex stanza e si prenda le cose che si deve prendere. Io mi informerò ora della programmazione, non so se avete notizie già della programmazione, quando sarà fatta, ma credo domani mattina. Arrivata a questo punto, se c'è qualcuno che sa che è stato nei seggi quando è stata già programmata questo appuntamento, credo domani comunque, perché già a Fionisio stanno facendo stasera, l'indomani si fa la programmazione. La programmazione è l'ufficializzazione del risultato elettorale. Allora arrivato a questo punto io metterò piedi nel palazzo un minuto dopo che sarà effettuata la mia e la vostra proclamazione. Stasera ce lo guardiamo così? Io non so se c'è qua il responsabile dell'ufficio elettorale, stasera presenta a quest'ora, no, non credo c'è, è sopra. Allora siccome io non posso entrare, se lo può fare scendere un attimino comandante, così in diretta saprete quando verrà effettuata la proclamazione. E quindi quando anche avverrà l'assalto alla Bastiglia. Cos'è questo? Manca una sezione ancora? Cos'è per me sbagliamo figliole? Che se parliamo prima del tempo? Bello in feneria? Turiano? Prima sarevi tu contentone? Quando? Mercoledì. Dovrebbe essere mercoledì, che cos'è? mi hanno regalato un libro che si chiama